Musica Uè bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo specialissimo video Io sono Xyuder e ragazzi la domanda sulla bocca di tutti dopo aver visto le sfide Della settimana che non sono molto difficili è ma porca di quella porca Xyuder Dove caspita sono i due bastioni che bisogna andare a recuperare per poter fare la missione Quella dei 14 giorni di Fortnite raga semplicissimo Il primo bastione lo stiamo andando a raggiungere proprio in questo momento Basta solo che ci passate vicino raga mi raccomando di starci abbastanza vicino Fino a che non vi da la missione io forse l'ho fatto prima quindi me l'ha già assegnato Una volta che siete andati lì ragazzi vi consiglio di recuperare Velocissimamente un aeroplano e dirigervi ragazzi nella montagna di condotti confusi Vediamo se riusciamo a non farci ammazzare Ok perfetto io ho già messo il ping ragazzi quindi Datemi solo un secondo che mi oriento basta solamente Sbrigarsi e se non l'hanno distrutto ragazzi il secondo No è quel ping il secondo bastione di zucchero ragazzi uno dei tanti che sono sparsi per la mappa È proprio nella montagna di condotti confusi quindi ci dirigiamo molto velocemente ragazzi A recuperarlo intanto GG per il pollo con il mantello che è veramente meraviglioso Vediamo se lo abbiamo azzeccato ragazzi dovrebbe proprio essere lì Forse forse non è lì aspetta un attimo vediamo 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 dovrebbe essere qua Vedo già che ci sono delle persone Ok qualcuno l'ha distrutto ragazzi Dovrebbe comunque essere conteggiata e infatti C'era su un tipo con noi me l'ha conteggiato vai pure tu con l'aereo zio A me non interessa quindi direi ragazzi che possiamo tranquillamente suicidarci Oh è sempre difficile suicidarsi o farti chillare È facile suicidarsi non lo è mai Perché ragazzi sblocchiamo anche la gatta Ma vai ammazzati Ma non si ammazza Aspetta un attimo raga Volevo farvi vedere la gatta perché sblocchiamo anche l'inx Ma porca Un momento ragazzi Uno cerca di fare le cose fatte bene su Ina Maiala Non ce la fa mai Non ce la fa mai Aspetta un attimo aspetta un attimo ragazzi Che ve lo faccio vedere di prepotenza Dai dai fai una rampa per favore Per favore per favore Dovremmo ammazzarci da qua ok La sfida è completata ragazzi Torniamo in lobby Vediamo la gattona com'è E vediamo un pochettino ragazzi se ci piace O non ci piace Attenzione Attenzione Dammi la miciona Mi dà intanto la schermata di caricamento Per averlo ottenuto E non mi dà la miciona Non mi dà la miciona Ma secondo me c'è la miciona Non c'è la miciona Niente ragazzi Grazie per averlo guardato Un bel like Iscrivetevi al canale Noi ci vediamo in live Ciao Noi ci vediamo in live Noi ci vediamo in live